Si sta svolgendo presso il liceo scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta un corso PON denominato a scuola di fisica al quale stanno partecipando i migliori studenti di fisica dello stesso istituto ma anche di altri istituti di Enna, Agrigento e zone limitrofe. Il corso nasce come preparazione alle olimpiadi di fisica che si terranno a febbraio ma anche come preparazione didattica di tutte le materie scientifiche come ci spiega la professoressa Maria Petitto direttrice del corso. Quest'anno siamo alla quinta edizione della scuola estiva Euso che si tiene per una settimana intera dal lunedì al sabato. Sabato concluderemo e concluderemo con la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato alle olimpiadi di fisica Olifis ed Euso. La scuola estiva ormai è una tradizione per il liceo scientifico di Caltanissetta. Da cinque anni i ragazzi ci seguono in questa didattica laboratoriale che è un esperimento di didattica nei tre laboratori di scienze fisica, chimica e biologia. Ogni anno i docenti della scuola, io la professoressa Fazia e la professoressa Asaro, siamo coedivati da docenti universitari che ci raggiungono da Padova. Quest'anno è venuto il professore Paolo Centomo dell'Università di Padova, il chimico dell'Università di Padova. In laboratorio di biologia adesso ci raggiungerà c'è il professore Paolo Lavedere del Dipartimento di Biologia. In laboratorio di fisica c'è il professore Carlo Meneghini di Uniroma 3 del Dipartimento di Fisica. Noi abbiamo offerto per i quattro anni precedenti anche un servizio al territorio invitando ragazzi del primo e del secondo biennio del liceo scientifico anche di Enna, di Agrigento, della provincia di Agrigento e della provincia di Enna. Quest'anno il liceo scientifico è stato invitato a svolgere un ulteriore approfondimento di questa didattica laboratoriale. Siamo stati invitati a portare questa esperienza ospiti della Scuola Superiore di Catania. Ci metteranno a disposizione anche i laboratori del Dipartimento di Fisica, Chimica e Biologia di Catania. E offriremo ai nostri ragazzi ma anche agli studenti della provincia della Sicilia, della Calabria e della Campania un'esperienza che già noi portiamo avanti da cinque anni. Io sono Giovanni Ferro, ho frequentato il quarto anno di questo liceo scientifico. Ormai siamo giunti alla quinta edizione della Scuola Estiva di Fisica. Io è da quattro anni che partecipo quindi ormai sono un veterano di questa scuola. Per me è stata un'occasione altamente formativa perché mi ha permesso di approfondire alcuni argomenti che magari a scuola vengono trattati soltanto a livello approssimativo per questioni di tempo più che altro. L'approccio che abbiamo adottato per le materie scientifiche è diverso da quello usuale poiché abbiamo adottato un approccio laboratoriale. Quindi partiamo dall'osservazione fenomenologica, poi formuliamo delle ipotesi e in seguito prendiamo delle misure e analizziamo i dati. Abbiamo effettuato esperimenti di tre discipline, chimica, fisica e biologia. Per ciascuna di queste abbiamo redatto delle relazioni e poi le relazioni sono state discusse nel tardo pomeriggio di fronte alla nostra piccola comunità scientifica. Ci è stata data anche la possibilità di confrontarci quindi con gli altri gruppi e di ascoltare le osservazioni degli esperti esterni che sono venuti proprio per questo motivo. Inoltre la scuola estiva mi è stata molto utile proprio perché mi ha dato la possibilità di approfondire alcuni argomenti e soprattutto di sviluppare non tanto delle conoscenze ma delle competenze specifiche che mi hanno permesso di acquistare crediti anche per partecipare ad altre attività stage e altre scuole estive a livello nazionale. Anch'io come Giovanni posso definirmi una veterana della scuola estiva perché ho partecipato alle ultime quattro edizioni, questa è la quinta. Ritengo che sia un'esperienza altamente formativa e la consiglio a tutti coloro che come noi amano le discipline scientifiche. Io ormai mi sono affezionato, per me venire a Cattani 7 è un grande piacere quindi tutte le volte che mi invitano vengo con piacere appunto. Sono ragazzi fantastici, mi trovo molto bene e spero anche loro, quindi anche quest'anno. Gli anni scorsi sono venuti d'inverno, questa è la prima volta d'estate, tra l'altro sono venuto sia a gennaio e a gennaio di due anni fa. È un'ottima scuola, sono ottimi gli studenti che escono, la professoressa mi dà i resoconti delle Olimpiadi di Fisica, degli esami di maturità, insomma. È un'attività che dà i suoi frutti, è praticosa ma che dà i suoi frutti.